salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video come vedete questa bellissima maglietta che fra l'altro una delle mie marche preferite eterno che dura per sempre la grandezza è dentro di noi riprende perfettamente i colori del mio logo personale che ha fatto lorenzo del bono lo ringraziamo molto è una figata e decisamente spettacolare come vedete ci sono le aquilette dell'albania con lo coroncino in testa perché mi sento un king e giustamente lo devo far vedere e perché dico è ok non importa sta di fatto che l'aquila è il simbolo della libertà quindi libero free e proprio come quest'aquila come dice questo bel bigliettino da visita sono diventato un freelance quindi spezzo la lancia dove mi pare come mi pare non è vero ovviamente dovete essere accettati per per portare le vostre lance la storia del freelance è anche bellina ma non me la ricordo in questo momento quindi ve la racconterò in un'altra volta sarebbe stata molto carina metterlo in questo video ricordate ma magari scrivo qualcosa nei commenti per chi non sapesse mi sono staccato dalla mia sede lavorativa per mettermi in proprio non sono un imprenditore in questo momento sono semplicemente un libero professionista più libero che professionista e ho comprato anche questo bellissimo mac per fare le app su ios bellissimo telefono che sta registrando tutto ciò per dire la differenza tra lavoro da dipendente e da freelance questo è il primo mese e mezzo quindi vivere un po di cosa è successo perché la cosa è un po strana fino a tre giorni fa ero del tipo cavolo ora che non sono al lavoro devo trovarmi il lavoro perché sennò qui rimango a piedi rimango a secco non faccio niente infatti non è stato un problema così indifferente cosa è successo però in questi tre giorni apparentemente mi è apparso lavoro per due settimane e considerate che la fortuna barra sfortuna di lavorare come freelance è che innanzitutto lavorate un po da soli mettiamo così quindi lavorate per conto vostro di solito riuscite a fare dei progetti autoconclusivi diciamo che poi date al cliente che penserà a integrarli o più con altre persone che stanno lavorando sul vostro stesso progetto direi di sì perché altrimenti probabilmente vi assumerebbero come dipendenti cosa che richiedono a ogni colloquio grossomodo e assolutamente non c'è niente di male a fare il dipendente anzi se trovate un'azienda che vi sentite di poter rappresentare e fate della loro filosofia la vostra o se vi trovate proprio bene con la filosofia aziendale siete immagino nel posto dove volete essere perché alla fine se vi trovate bene nell'ambiente siete voi che portate contributo all'ambiente cioè è un posto dove vorreste proprio stare quindi l'azienda nonostante non sia vostra è ciò che rappresentate in quel momento quando sentite questo genere di cose davvero siete in un bel posto perché quindi mi sono messo a fare il freelance perché io voglio essere il mio posto perché sono un po così il logo non so se l'ho già detto e presentato questa bellissima aquila il simbolo della libertà con le coroncine in testa come l'ultimo king d'albania e come mi sento io praticamente un king in generale con il bigliettino da visita l'ho già basta sono sicuro che l'ho detto non taglierò il video perché questi tre giorni è successo che devo sviluppare un'app nuova da zero e lì già vi dico che è uno stipendio di un mese da povero che guadagnavo prima con la differenza che lo farò in una settimana quindi questa è la potenza del fornire un servizio che è ricercato e che non tutti possono dare questo è un bel vantaggio lo svantaggio ovviamente è che se non avete abbastanza lavori per camparvi rimanete a piedi non so più cosa stia dicendo sì è tre giorni che non faccio altro che lavorare perché è successo un'emergenza lavoro oltre a l'applicazione da fare mi hanno dato un'applicazione da fare in due giorni quindi sono stato mezza giornata a prendere i requisiti che mi voleva cioè che volevano darmi per l'applicazione e altri due giorni quindi dalle 11 di ieri l'altro alle 6 e mezzo del pomeriggio di oggi sono stato a fare quest'app questo perché al porto dove caricavano dei telai in dei lotti in immaginatevi come dei container o dei box grandi dove mettono un insieme di macchine che hanno delle caratteristiche simili quindi che sono dello stesso modello della stessa marca o hanno altri requisiti simili perché si sono trovati in questo posto in una situazione in cui non riuscivano a gestire più con carta e penna questa mole di lavoro così grossa è successo che hanno avuto il lavoro di un giorno smistato cioè il lavoro di 3200 il lavoro di 15 giorni smistato in un giorno e hanno detto aiuto e qui interviene l'aiuto però l'aiuto deve essere super fulminio che porta a orari strani soprattutto se considerate il fatto che avrete altri impegni presi nella giornata che dovrete annullare probabilmente che non si fa infatti il video lo rifacciamo oggi perché avevo detto che l'avrei registrato con calma infatti comunque sono abbastanza tranquillo dato che l'applicazione è finita è stata passata e sembrerebbe funzionante domattina sentiremo chiamare e dire questa non funziona e ci dovremmo mettere a aggiustarla però per adesso sembra tutto tranquillo la quiete prima della tempesta tutto ciò per dirvi che mi sto divertendo uno sbotto la cosa stanca parecchio forse sì forse sì sono solo all'inizio quindi se mi vedrete esaurito saprete il perché ma per ora mi sto divertendo uno sbotto infatti sono abbastanza con piaciuto delle app che mi sto facendo e spero e spenso come dice il mio amico dennis spero e penso di fare ancora dei lavori migliori questo video sul canale ci può stare ci può stare canso niente come avrete capito sto parlando un po' a caso vi racconto quel che ho fatto e la prossima applicazione sarà per uno yacht molto figo in cui segnerà tutte le prestazioni che verranno fatte al capitano da poi per poi fargli la fattura qualcosa del genere se avete qualche applicazione da fare e non volete farvela fare non lo posso dire su fiverr e basta però forse mi ci dovrei mettere anch'io tutto sommato nuove idee nuove idee non male non male non male non male l'abitudine eroica del 28 non l'ho ancora preparata ma di realtà ne ho pronte 18 di titoli ma c'ho da fare tutti i video quindi quello quel problema permane e vediamo un po' cosa fare con youtube ovviamente i video si fanno perché mi piace farli non è che mi paghi qualcuno a farli come ben saprete anzi vi ringrazio se usate del vostro tempo per seguirmi e ascoltare le cavolate che dico se avete qualche domanda fatemela nei commenti e proverò a rispondervi e voi lavorate siete sempre a scuola la maggior parte di voi sarà sempre a scuola qualcuno di voi avrà cominciato l'università però perché probabilmente è un po' che mi potreste seguire quindi molto divertente anche quella voi cosa vorrete fare da grandi? scrivetelo nei commenti pessimo vabbè ragazzi vi saluto grazie davvero della visita vi mando vi rimando un saluto no 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 Grazie.